Ciao ragazzi bentornati su Passione Modellismo Oggi continuiamo con la serie dedicata alla Tumblr La celebre Batmobile di Batman nel film, nella trilogia di Nolan Oggi come potete vedere ragazzi sul banco abbiamo 4 fascicoli E arriviamo fino al numero 43 Ce ne vuole ancora da arrivare alla fine ragazzi E' bello lungo qua la strada però vabbè non importa Prima di iniziare come al solito ragazzi vi invito A iscrivervi al canale, lasciare ovviamente un commento per dire la vostra Lasciare un bel pollicione perché è molto importante Condividete questo video con amici, insomma parenti Chiunque, chiunque, conoscenze che sia comunque appassionato di questi tipologi di modellini Oppure chi sta costruendo questa serie magari Vi posso dare una mano oppure voi potete darla a me sfruttando appunto i commenti Quindi mi raccomando è molto importante Non usate i commenti ragazzi per scrivermi, carica altri video o porta questo o porta quell'altro Perché non serve a nulla, so già quello che devo portare sul mio canale ragazzuoli Io sono qui disponibile per darmi la mano a voi Oppure se io sbaglio qualcosa voi ve la date a me Ve la date a me E' questo ragazzi che sono i commenti Ragazzuoli dai iniziamo subito con il fascicolo numero 40 Senza perdereci in chiacchiere e nulla Dai, come al solito non posso mostrarvi In preview insomma i componenti che sono all'interno dei fascicoli Perché sono all'interno chiusi da questi scatolotti E come potete vedere qua penso che c'è uno scatolotto bello grosso Quindi non so cosa può contenere Forse è un componente del telaio Sarà un, non so, una piastra di qualche tipo Poi vediamo Anche di qua ragazzi c'è un componente bello grosso Va bene dai, iniziamo con il numero 40 E vediamo che cosa andiamo a costruire Ed eccoci qua ragazzi con il primo fascicolo di questo episodio Il numero 40 e questi sono i suoi componenti Ebbene sì ragazzi qui andremo a trattare il telecomando della Batmobile Sì perché comunque tutte le funzioni dinamiche di questo modellino Insomma si possono Hanno una funzione comunque con un telecomando a distanza Allora a parte questo ragazzi Prima di iniziare col montaggio e comunque elencarvi i componenti Anche perché già i componenti sapete già quali sono Si vede già dal video Ma volevo un attimo dire Insomma mandare un messaggio ad Ascette E volevo chiedere ad Ascette se mai guarderà questo video un giorno Di mandare i componenti Per un attimo oggi sono un po' on fire I componenti puliti per favore Perché mi sono arrivati Cioè ho aperto la scatolina La scatolina è all'interno Insomma della scatolina Oltre ai componenti c'erano un ragnatele Un ragno morto Cioè per favore Ascette Con quello che spendiamo per questi componenti Perlomeno abbi la decenza insomma di mandarli puliti E ordinati Chiedo soltanto questo Ok? Comunque ragazzola I componenti sono ovviamente abbiamo il fronte del telecomando La pulsantiera Le spalle del telecomando Ovviamente la scheda elettronica Che comunque è insomma il cervello del telecomando E poi abbiamo un porta batteria Eh sì perché qua ci va una batteria a tampone Ok? Quelle batterie che sono simili a un dischetto Se avete presente Va bene ragazzuoli Dai montiamo questo telecomando Il telecomando in sala ragazzi Non è neanche tanto complicato da montare Recupera nel senso Vado a vedere un attimo la pulsantiera Cos'è che c'è scritto? Qui abbiamo Headlight Spotlight Jetboost Ok Left Right Poi abbiamo Spoiler Cockpit Dashboard light E cannon Ok quindi il cannone La luce ovviamente della dashboard Il cockpit Quindi è il sistema se non sbaglio del sedile Che va avanti e indietro Lo spoiler Sinistra e destra non so cosa sia Penso che siano le ali comunque che si aprono sui lati della tumbler Spotlight Allora quindi questi sono i tre led che vengono comunque alimentati all'interno del modellino Va bene Quindi headlight Quindi la luce di testa La luce posteriore E il jet boost Va bene Ok ci sta Comunque andiamo ad inserire ovviamente la tastiera all'interno del Della parte frontale del telecomando E voilà infatti il telecomando in sé è questo Ok Molto semplice Ora andiamo ad inserire la scheda Qui ragazzi abbiamo un perno centrale che ovviamente non solo ci accompagna a posizionare Tutti i componenti in modo corretto Ma anche a far mantenere i componenti sempre nello stesso posto quindi senza farli muovere Ora una volta fatto questo possiamo andare ovviamente a chiudere con la parte Retrostante Tutto a pressione dovrebbe essere Insomma Non si è Tac Carino Andiamo Funziona? Dovrebbe funzionare Ok ragazzuoli Nulla Poi andiamo ad inserire il carrellino che poi dovrà contenere la batteria tampone In questo caso Non so se sia così Sì sì è così Perfetto Ed eccolo qua ragazzuoli Telecomando completato? Molto semplice È un po' come il telecomando quello delle televisioni È identico praticamente Non cambia nulla L'unica cosa che non riesco a capire è dov'è la trasmittente Penso che era all'interno del telecomando nella parte posteriore Va bene Va bene ragazzuoli Quindi il fascicolo numero 40 termina Ma così ecco qui il telecomando completato All'interno del fascicolo ragazzi La spiegazione finale praticamente è quella di andare a montare le parti elettroniche E andare a provarle col telecomando Ma al momento io non ho la batteria tampone Perché non mi ricordavo che arrivava il telecomando ragazzuoli Perché sto registrando un video dopo l'altro Perché in questa settimana sono un po' occupato con facende un po' personali E quindi nulla Lo proveremo magari nel prossimo episodio ragazzuoli Comunque dai passiamo subito al fascicolo 41 Ed eccolo qui ragazzi il fascicolo numero 41 Il secondo fascicolo di questo video E questi sono i suoi componenti Qui andremo a trattare la cremagliera dello sterzo della Batmobile Bene, molto bene Anche perché era una delle prime curiosità Insomma della nostra Batmobile Visto che comunque sono due ruote staccate fra di loro Quindi con due funzioni diverse Volevo vedere qual era il funzionamento appunto dello sterzo E forse qui lo andremo a scoprire Allora i componenti sono La cremagliera Ovviamente questa è la cremagliera Poi abbiamo i due braccietti dello sterzo Questo qui è la piastra motore sterzo Ok, quindi lo sterzo sarà elettronico E poi abbiamo quattro tipologie di viteria Quindi Udia Milano Ancona Milano Empoli Milano Ancona Imola Milano Andiamo subito al montaggio Prima fase di montaggio ragazzi Andiamo a montare i bracci dello sterzo Sulla cremagliera con due viti Empoli Milano e M Quindi Ricopriamo il cacciavitone E andiamo a posizionare I due bracci Nella posizione appunto di montaggio Ovviamente qua ragazzi abbiamo Vedete questo supporto Con appunto la cremagliera Deve essere inserita all'interno del supporto E poi con una vite E M Che è una vite Passante In questo modo Andiamo a avvitare E fissare entrambi i bracci Molto semplice Ora la posizione della cremagliera Sì In realtà non è così Ma va montata così Anche se in realtà ragazzi Non cambia Cioè nel senso Penso che la testina della vite Non cambia Se sia o di qua o di là Sì adesso le ho strette un po' In modo tale da non farle ballare Però comunque una volta terminato il montaggio Questo è Insomma Come si presenta il componente Eccolo qua Con la testina delle viti Comunque nella parte posteriore Della cremagliera Insomma della zona Ingranati della cremagliera In questo modo Ok Ora ragazzi In questo passaggio Andiamo a recuperare La parte sterzante appunto E ovviamente la parte frontale Della tumbler Il motorino Che si occuperà appunto Di far girare Insomma E sterzare le ruote Della tumbler Il motorino in questione Era quello attaccato Alla spinetta numero 2 Ok E il numero 2 Vedete Così non vi sbagliate Ed è un cavo grigio e nero Poi andiamo a recuperare Due viti di tipo AM Ancora Milano E ovviamente Il coperchio Che manterrà appunto Il motore dello sterzo In posizione Bene sì perché Il motore in questione Va montato esattamente Qui nella parte centrale Nel lato posteriore Della piastra Dello sterzo Il motore va inserito Correttamente Con l'ingranaggio O il pignoncino Verso il basso Ok In questo modo Ragazzi Io purtroppo Non lo posso provare Quindi Sarà un bel guaio Se il motore È montato al contrario Comunque Poi lo vedremo Quel giorno lì Dai Facciamo così Perché al momento Non lo posso provare In questo momento Mentre il registo Magari Off camera Magari lo proverò Ora passiamo Alla prossima fase Di montaggio Ragazzi Che è quella Di andare a montare Appunto La cremalliera Nella parte frontale Della nostra tumbler Ok L'avete già capito Com'è il funzionamento Ragazzi La cremalliera È quel componente Che farà Ovviamente Collegare Entrambe le ruote Frontali Con appunto Questi due bracci Che abbiamo montato Prima Questi bracci Andranno montati Sugli altri bracci Sterzanti Quelli collegati Alle ruote E in pratica Che cosa fa? Fa funzionare Simultaneamente Le ruote frontali E funzioneranno Dinamicamente Meccanicamente Perché saranno Appunto Movimentate Insomma Dal motorino elettrico Quindi andiamo Ad inserire La cremalliera In questa zona Come potete vedere La cremalliera Ha una parte Seghettata Dove appunto Il pignone Del motore Che abbiamo montato Prima Andrà a scivolare Da una parte A sinistra E a destra Quindi da una parte All'altra E muoverà Praticamente In simultanea Vedete Le ruote In questo modo Quindi andiamo A montare tutto Servono Due viti IAIM Quindi ancora Imola Milano Per il fissaggio Dei bracci sterzanti Sui bracci Della cremalliera E poi serviranno Due viti Udine Milano Per montarle Per montare Comunque Fissare La cremalliera Sui perni Dove appunto Scivolerà Vedete La cremalliera In questo modo Ora non lo faccio Perché il motorino Dell'elettrico È bloccato Infatti volevo vedere Se funzionava Ma è proprio bloccato Ok È proprio Una parte meccanica Ok ragazzi Quindi una volta Fissato la cremalliera Fissata La cremalliera Sulla parte frontale Della nostra tumbler Il fascicolo 41 Termina appunto Così Ok Allora A parte questo ragazzuoli Voglio Insomma Dirvi due dritte Insomma Due esperienze Che avrete Nel montare Questa cremalliera Prima di tutto L'esperienza Che purtroppo Ascette Pecca sempre O meglio Quella di Di non fare La filettatura All'interno Dei Dei Fogli per le viti E qua ragazzi Dovete lavorare un po' E fare un po' Un po' Di forza Ok Per andare a inserire Correttamente Queste viti Queste sono le viti Che tengono la cremalliera Insomma Contro All'ingranaggio In modo tale Che possa Poi l'ingranaggio Far scorrere La barra Sinistra E a destra E appunto Far sterzare A sinistra e destra Anche le ruote In modo contemporaneo Ora Quello che avete notato voi Che prima non c'era È il nastro Qua c'è Ci sono due componenti Sul braccio Comunque sterzante Della tumbler Dove questo componente qua Che penso che siano Anche altri due sistemi Di pistoni Si va a incastrare Sempre nella sezione Vedete Dove appunto Flat Vedete Dove c'è il sistema Di ammortizzazione Nella parte frontale E questo si va sempre A incastrare All'interno Di questo telaio Ora ve lo mostro Vedete Che qui ci sono Dei pistoni Tra l'altro Bisogna fare anche Attenzione Ecco Vedete I pistoni Vedete Che si apre E si chiudono Questo qui Ecco Bisogna fare attenzione Perché se si apre Troppo Insomma La sede del pistone Quella interna Scappa via E quindi Mi raccomando Ragazzi Non andate a montare Tutto il modellino Però Non accorgendovi Del Dello stelo Dello stelo Dell'ammortizzatore Che è fuori Ok Perché altrimenti È un guaio Quello che stavo Per fare io Il problema Quali sono Questi due bracci Qui Quindi fate Come ho fatto io Andate a metterci Due nastrini Qui In modo tale Che non dà fastidio Tanto non fa parte Di questo movimento Questi due bracci Qui non fanno parte Di questo movimento E non vi dà più fastidio Poi vedremo Quando dovremo andare A fissarli Definitivamente Sul modellino Comunque ragazzuoli Due Cavolatini così Ve lo dette Passiamo al fascicolo Numero 42 Ed eccoci qui ragazzi Col terzo fascicolo Di questo episodio Che è il numero 42 Questi sono È il suo componente Non questi Che si tratta appunto Del supporto Del pianale Dalla Batmobile In più abbiamo Anche vite Di tipo WM Bella bella Questa Word 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 è Milano Va bene Vabbè Wuster E poi abbiamo Un biadesivo nero Dei biadesivi neri In realtà sono due Ok Passiamo al montaggio Vediamo Cosa andremo a montare Su questo fantastico telaio Tra l'altro È un telaio In ferro Molto fine Devo dire Sperando che non si No vabbè Flette non si flette Perfetto Dai va bene Perfetto Quindi iniziamo subito Il montaggio Su questo pianale Andiamo subito A notare Che ci sono Due zone Sul pianale La parte frontale E la parte posteriore Ora Non so quale sia La frontale Non so quale sia La posteriore Però ora so Che dobbiamo andare A lavorare Su questa parte Con vedete Questo piattellino Bene Andiamo a vedere Subito sul telaio Che ci sono due sedi Qui dovremo andare A montarci Li switch Ve li ricordate Li switchini Che non capivamo Quale Quale funzionamento Dessero Comunque Poi lo scopriremo Più avanti Allora In questo caso È lo switchino Con lo switch Con il numero 3 Ok Eccolo qui Quindi andate a staccarlo Ovviamente Da la Da Quel Guarda C'è un casino Dentro quella scatola Di cavi Non so perché Mi hanno fatto collegare Tutto insieme Però vabbè Non importa Andate a scollegare Comunque Nella spinetta Appunto Femmina Numero 3 Il maschio Numero 3 E dobbiamo andare Praticamente A fissarlo Qui Andiamo a vedere Sullo switch Che abbiamo Un foro Per la vite Vedete Eccolo qui Sfruttiamo Questo foro Con una vite WM E andiamo A fissarlo In questa sede Ora andiamo A fare Praticamente Ragazzi La stessa cosa Ma con lo switch Numero 4 Eccolo qui E andiamo A metterlo Praticamente Nel lato opposto Eccolo qui Switch numero 4 Lato opposto Qui Molto semplice Sempre con una vite WM I biadisivi neri Ragazzi Praticamente Servono A fissare Il cavo Sul telaietto Quindi andiamo A prendere Uno dei biadisivi neri Andiamo a Drizzare Insomma Raddrizzare Il cavetto Perfettamente centrale Su una delle barre Del telaio E andiamo A Vedete Fissare Voilà Vedete In questo modo Facciamo la stessa cosa Con quell'altro Biadisivo E ci siamo Ragazzi Allora Una piccola info Che c'è scritta Anche nel fascicolo Una cosa molto Molto importante Gli switch Devono Funzionare Verso Il basso Ok In questo modo Quindi In questo caso Questo è quello sinistro Guardando da questa faccia Del telaio Verso sinistra E quell'altro Verso destra Non fate forza Nel lato Nel lato opposto Ok Se no Spaccate tutto il motorino E insomma Il chip che c'è All'interno Dello switch Quindi Mi raccomando Non fate la cavolata Fatelo funzionare Nel modo giusto Anche con il fascicolo 42 Ci siamo Abbiamo terminato Direi di passare All'ultimo fascicolo Di questo episodio Che è il numero 43 Ed eccolo qui Il numero 43 E ultimo fascicolo Di questo episodio Qui andremo Qui andremo a trattare Ragazzi Una cosa diversa Una cosa diversa Dei componenti Che abbiamo trattato In precedenza Oddio diversa In realtà Si Insomma collega Con il telaio Che abbiamo montato prima Ma non si collega Con la zona frontale Della Batmobile Quindi Qui andremo a trattare Il rinforzo laterale Sinistro Della Batmobile Che è appunto Il rinforzo Che va Andrà fissato Nella zona Dell'abitacolo Ok Poi vi mostrerò Vi faccio vedere Comunque abbiamo appunto Il nostro rinforzo Laterale sinistro Sempre i due Vi adesivi Appunto Per andare poi A sistemare i cavi Lo vedremo poi dopo Perché andremo a montare I led all'interno Dell'abitacolo E poi delle viti Empoli Palermo La prima fase Del montaggio ragazzi In realtà Non è neanche tanto Così complicata Andiamo a recuperare Ovviamente Come vi ho anticipato Prima all'inizio Del fascicolo Andiamo a recuperare La spinetta Numero 16 Quella in cui È collegata appunto I due led E sono appunto I led che andranno Appunto inseriti qui Che poi illumineranno L'abitacolo interno Quindi prima cosa Che dobbiamo fare qua Dice di usare Una pinzetta Per andare a piegare In questo modo Vedete A L Il collegamento Ok Ora Per quanto riguarda I led ragazzi Penso che sia La stessa cosa Ok Però Se volete seguire Per filo e per segno La posizione corretta Dei led Questo Che è quello Praticamente Che collega entrambi i led E quello che va A sinistra Ok Quindi andiamo In inserire E quello Invece singolo È quello che va a destra Ora Sinceramente ragazzi Penso che Non cambi nulla Ok Penso che comunque Sia un unico contatto Che illumina entrambi i led Quindi non penso che cambi Il fatto di Quello col doppio cavo Che sta a sinistra O sta a destra Penso che non cambi Proprio nulla Comunque andiamo Andiamo a posizionarlo In modo Il più pulito Possibile Ok Ora per quanto riguarda I biadesivi Quindi quei nastri neri Servono uno Per mantenere I cavi Insomma per incollare Il cavo Tra i due led E quell'altro Invece Serve per andare Vedete Ad incollare Il cavo Che poi andrà In centralina Sotto la base Dell'abitacolo Ok In questo modo Quindi passerà Esattamente Vedete In questa sede qui Molto semplice Fate passare Mi raccomando Il cavo Ovviamente Della centralina Sotto Il cavo Che fa Da un led E l'altro Perché altrimenti Poi Metti in caso Che voi dovete Tirarlo Perché dovete Farlo arrivare In centralina Per sbaglio Per errore Lo tirate Se lo lasciate Sopra Rischiate Di strappare Il led E Guarda ragazzi Per esperienza Vi dico Che il sistema Elettrico A shet Insomma È molto molto Delicato Quindi Credetemi Metteteli In modo Correttamente E in modo Che i cavi Non Si disturbano Fra loro Ecco Comunque Ci siamo Ragazzi Anche Il sistema Di illuminazione Interna Dell'abitacolo Ovviamente Si parla di quello Laterale È montato Ora dobbiamo Andare a montare Praticamente Il telaghetto Il telaghetto In sé L'avete già capito Dove si monta Qui abbiamo Appunto I suoi fori Per le viti Il telaghetto Va montato In questo modo Ora Devo vedere Però Se gli dà fastidio No Non credo Non credo Che gli dia fastidio Vedete abbiamo Appunto Quei tre perni Nella parte inferiore Che andranno Inseriti Nei fori Nei suoi fori Giusti Ora andiamo a vedere Se andiamo ad inserire Vediamo se il led Li dà fastidio Ok ragazzi Ce l'ho fatta Con un po' di delicatezza Ce l'ho fatta Bisogna prima Ovviamente Far inserire La parte posteriore Del telaghetto Quindi la zona destra E poi la zona sinistra Automaticamente Può si andrà a centrare Anche il perno Inferiore centrale E bisogna Portare un po' di pazienza Perché Non sono precisissime Al millimetro Ragazzi Bisogna un po' adattare Adattare il tutto Insomma Allora dai Quindi recuperiamo La viteria Che praticamente Sono Quattro viti Empoli Palermo Quindi queste due E andiamo a fissare Il telaghetto Sull'abitacolo E buona ragazzi Una volta terminato Comunque Di aver fissato Tutte e quattro le viti Empoli Palermo Sul telaghetto Ci siamo Eccolo qua Ecco il telaghetto Fissato Questo metodo qua Sinceramente ragazzi Mi piace Uno perché poi sarà Renderà più semplice Il montaggio Insomma Delle fasi dei componenti Quindi qua Sicuramente poi Andremo a montare Anche il telaghetto Sul lato destro E quindi sarà più semplice Non dobbiamo stargli A sclerare con viti e vitine Ma sarà tutto Tramite un telaio E questa cosa L'apprezzo Davvero L'apprezzo tantissimo Perché Rende più facile Il montaggio Quando andremo a fare Poi il matrimonio Quindi il collegamento Di tutti i componenti Oltre a questo Ragazzi Rende anche Insomma Le plastiche All'interno Dell'abitacolo Molto rigide Molto molto rigide E anche molto Insomma Bello Bello fermo Ecco Molto più realistico E bello fermo Dai Su questo Su questa fase Sono d'accordissimo E quindi ragazzuoli Anche L'ultimo fascicolo Di questo episodio Termina così Siamo giunti alla fine Anche di questo video Devo dire che oggi Ci siamo portati Molto avanti Abbiamo ottenuto Comunque finalmente Il telecomando Che non ho ancora provato Ragazzi Poi lo proverò Andrò a acquistare Una batteria tampone Perché al momento Non ce l'ho qui in studio Quindi poi Lo proverò Poi ci siamo portati avanti Sul lato sterzante Frontale Della tumbler Abbiamo rinforzato L'abitacolo Abbiamo iniziato Ad aggiungere Qualche piccolo Particolare Su il telaio Questo qua Penso che sia La fase centrale Del telaio Quindi una delle più importanti E nulla ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Se vi è piaciuto Questo video Mettete il pollicione Sfruttate i commenti Per dire la vostra E nulla Noi ci vediamo Ovviamente Lunedì prossimo Ciao belli Ciao belli